Massimo Lucidi, il Premio Eccellenza Italiana, che cos'è e spieghiamo al pubblico perché è importante. Il Premio Eccellenza Italiana racconta l'Italia del merito e del talento. E lo facciamo a Washington, la capitale del mondo, del mondo occidentale, perché abbiamo bisogno di un racconto diverso dell'Italia. Noi raccontiamo l'Italia che funziona, che è fatta di tante imprese e professionisti che meritano, ma che non hanno un luogo di rappresentanza di questo interesse. Che l'interesse è di alzarsi tutte le mattine, di lavorare con onestà, ma anche con grande rettitudine, con continuità, con speranza, perché il Premio Eccellenza Italiana deve dare speranza perché è importante attivare tutte le energie positive del Paese. Lo facciamo a Washington e lo facciamo una volta all'anno durante quella bella settimana che è la settimana degli italiani che ricordano Cristoforo Colombo. La cosa significativa di eventi di questo genere sono quelli di riuscire a qualificare il Made in Italy. Una cosa che paradossalmente noi a casa nostra non riusciamo a fare altrettanto bene. Beh, diciamo pure che noi italiani abbiamo tante virtù e poi tra noi possiamo anche parlarci dei difetti. Il difetto di non fare squadra, di non fare sistema, noi non sappiamo stare insieme. Forse, lo dico in un altro libro che ho fatto, Networking, noi non vogliamo stare insieme. Ecco, questo è il tema. Noi vinceremo queste battaglie, queste crisi, questi momenti storici di grande palingenesi dell'economia, della cultura, della società, solo se sapremo ritrovare quelle ragioni identitarie e quel gusto di stare insieme. E allora ecco che un premio può servire se c'è quel background ideale ed etico che muove delle forze che appartengono all'uomo, che non è soltanto l'interesse ma anche la passione, perché ci si muove per interessi ma anche per passioni, quindi anche in un mondo di gratuità e di benessere collettivo. Le candidature sono gratuite, basta mandare una mail e poi cerchiamo di legarci ai tanti comitati degli italiani nel mondo che abbiamo attraverso delle attività di networking e di reputation, che sono, se vuoi, lo dico a un mio collega, i lavori del domani, i lavori del futuro. Oggi un giornalista che ti dice che stai in crisi è un giornalista che non ha compreso dove guardare qual è il mercato. Il mercato si chiama, giusto appunto, networking e net reputation. Che aggiungo io per concludere, per una regione come quella Lombarda, in cui si terranno le Olimpiadi nel 2026, il networking è proprio quello che serve per valorizzare quello che noi siamo capaci di fare. Io voglio ringraziarti per questo invito e non è un caso che sia venuto al Pirellone, dove sin dall'inizio di questo percorso la regione Lombardia ci è stata vicina e soprattutto sono nate in questo territorio delle grandi candidature e anche dei grandi vincitori. Voglio ricordare dalla prima edizione Ambrosi per l'industria, Ponsi per i servizi. Da quel momento lì sono nate delle candidature di grandissimo spessore che ci hanno accompagnato. Quest'anno faremo la sesta edizione. Grazie e naturalmente buon lavoro. Buon lavoro a voi e grazie.